Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono DMAXTV, Nico Pecchio, meglio noto come Presidente e signori, benvenuti in questo nuovissimo vlog Ragazzi, oggi parleremo un po' di cose sempre del canale, sempre un po' di tutto questo vlog lo vedrete molto probabilmente quando è uscito l'episodio Sparo a caso 8-9 o 7 di Marvel Avenger ma se non sbaglio 8 e appunto quando avrò finito Marvel Avenger tra l'altro ragazzi è un gioco bellissimo vi consiglio di andarvela a vedere cliccate sul canale naturalmente iscrivetevi, attivate la campanella lasciate like a questo video, a tutti i video di Marvel Avenger ragazzi per supportare la serie e far vedere che vi piace tantissimo signori detto ciò parliamo di questa serie appunto Marvel Avenger e parliamo anche di un'altra cosa Among Us, ok? Among Us io e il maestro vorremmo portare tantissimo scusate ma sono occupato a mettere Marvel Avenger che sto appunto vi faccio vedere due secondi sto per registrare Marvel Avenger guardate bello piccolo spoiler piccolo spoiler piccolo spoiler appunto Marvel Avengers Among Us comunque vi sto parlando di Among Us cazzo sono Marvel Avenger e Marvel Avenger Among Us Among Us Among Us Among Us stavo dicendo Among Us appunto presto arriverà un video io da solo ragazzi speriamo di abitare impostori di primo video di Among Us sul canale ragazzi vi prego spaccatelo lo dovete spaccare lo dovete spaccare di like altrimenti non c'è rimedio per continuare Among Us ragazzi se il video di Among Us raggiunge i 5 like i 5 i 5 non 5 5 non venivo tra 5 like vi porterò Among Us io e il maestro insieme e ragazzi sarà fichissimo da portare Among Us e il maestro perché ci divertiamo da morire detto ciò signori per questo vlog è tutto scusatemi se è breve ah se sulle prossime serie vi ho detto i code sto programmando tutto tutto a posto ce li ho già pronti UFC ce li ho già pronti ce li ho già pronti ho già pronto tutto signori non vedo l'ora di farveli vedere tutti ma con calma noi lavoriamo con calma signori qui dal presidente è tutto ciao aspetta facciamo arrivare a 3 minuti almeno boh così sfa un cazzo però boh 3 minuti vai ciao ciao